e what day a tutti ciurma e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo vlog ebbene ragazzi voglio parlare con voi un attimino della questione twitch perché appunto ieri io e rodrigo abbiamo incominciato a fare le live su until dawn su twitch poi manco a farla apposta ragazzi comunque non potremmo portare until dawn su youtube perché l'ho scoperto ieri proprio il gioco in sé non consente di selezionare youtube come piattaforma per la live streaming forse per questioni di copyright sinceramente non sappiamo il motivo quindi comunque manco a farlo apposta until dawn avremmo dovuto giocarlo comunque a prescindere in live su twitch per cui se qualcuno di voi mi stesse per chiedere giocherina ma magari farei qualche live su until dawn anche su youtube no ragazzi perché non è proprio reso possibile dalla play e dal gioco in sé non sappiamo il motivo ma è così quindi ragazzi volevo appunto parlare con voi della questione twitch perché comunque twitch ragazzi sappiamo benissimo che è la piattaforma insomma per eccellenza per le live streaming quindi penso abbia proprio più senso logico fare live su twitch anche proprio per questioni penso di stabilità penso che twitch da questo punto di vista sia più stabile forse di youtube per sorreggere live streaming e quindi ragazzi ieri per esempio sui vari social anche qui su youtube vi avevo chiesto insomma magari di venirmi a seguire anche lì volevo appunto ragazzi chiedervelo di nuovo questa volta anche in video perché magari è possibile che ci sia qualcuno che non ha i social qualcuno che non ha visto il post su youtube il post su facebook instagram insomma da qualsiasi parte e che quindi magari non si sia accorto di questa cosa e quindi volevo invitarvi ragazzi con questo video comunque ad andarmi a followare anche appunto sul mio account twitch troverete il link qua nella descrizione del video e volevo appunto ricordare magari a quelli che non hanno un account twitch e che sono magari un pochettino scettici nel crearselo che comunque ragazzi crearsi un account twitch non comporta assolutamente niente nel senso è totalmente gratuito è come registrarsi su youtube su facebook o su qualsiasi altro social ragazzi è praticamente identico spiccicato basta semplicemente inserire un indirizzo email e una password quindi da utilizzare per l'account veramente è una cosa rapidissima quindi non costa niente comunque a chi si iscrive è assolutamente gratuito quindi per voi comunque non ha alcun costo è come se mi seguiste qui su youtube e vi venisse ad iscrivere da me qui su youtube quindi la stessa identica cosa per cui ragazzi se non avete un account twitch potete stare assolutamente tranquilli sul fatto di magari crearvene uno e comunque non solo per me magari ma anche per seguire altri streamer altri magari youtuber che fanno live streaming su twitch per cui è una cosa veramente rapidissima semplicissima poi tra l'altro non dovete avere per forza un computer per magari seguire live streaming ragazzi perché qui ci ha creato anche un app per smartphone quindi potete tranquillamente scaricare l'app sul vostro cellulare chi ora come ora ragazzi non ha un cellulare e quindi seguire le live comodamente dal telefono quindi non è obbligatorio avere un computer potete scaricare l'app dal play store insomma se avete iphone o comunque da dove sia e iscrivervi semplicemente ragazzi con un indirizzo email e una password quindi più semplice di così secondo me si muore per quindi se doveste volere ragazzi è una cosa che richiede veramente pochissimi minuti e poi ovviamente ragazzi trovate comunque il link appunto al mio canale twitch qua sotto in descrizione o comunque mi trovate con nickname giocherina 91 magari ve lo scrivo qua da qualche parte ho sbattuto mi sono fatta malissimo volevo comunque sottolineare il fatto che la mia attività su twitch non è che adesso si andrà a sostituire la mia attività su youtube ragazzi questo assolutamente no comunque ovviamente cercherò di alternare le cose quindi magari un giorno live su twitch un giorno comunque video su youtube e via dicendo almeno per adesso ragazzi fino a quando comunque non si dovrà tornare al lavoro quindi non se io non saprò manco in che modo magari tornerò al lavoro e se tornerò al lavoro per cui comunque su queste cose poi io vi andrò aggiornando per lo meno per adesso ragazzi alternerò la mia attività su twitch a quella su youtube quindi non abbandono assolutamente il mio canale ragazzi ci mancherebbe per cui state tranquilli l'unico invito che vi faccio appunto andarmi a seguire anche su twitch se volete comunque stare in mia compagnia nelle mie live ragazzi un giorno sì un giorno no ovviamente le live alla sera per ora su until dawn continueranno sempre assieme a rodrigo ragazzi per cui vi invito a followermi su twitch anche per questo motivo comunque se ci tenete a seguire le nostre live insieme tra l'altro ragazzi dovete tenere in considerazione che ovviamente twitch magari potrebbe aiutarmi anche un pochettino di più economicamente parlando nel senso che magari è possibile avere qualche guadagno in più rispetto ragazzi invece a youtube più facilmente tra virgolette anche perché tra l'altro ragazzi ci si può abbonare quindi al canale per aiutare appunto mensilmente lo streamer in questione comunque l'abbonamento non è che poi rimane fisso ragazzi potete anche semplicemente per esempio abbonarvi per un mese poi comunque sta a voi decidere se continuare a sostenere il canale o meno e tra l'altro ragazzi se avete amazon prime twitch dà la possibilità di utilizzare appunto il fatto insomma che siete abbonati ad amazon prime per abbonarvi gratuitamente per un mese ad un canale a vostra scelta quindi in questo caso per esempio magari sarebbe il mio quindi se doveste avere amazon prime ed essere d'accordo sul fatto di abbonarvi al mio canale la questione di essere abbonati ad amazon prime appunto quindi ragazzi vi permette di abbonarvi al mio canale gratuitamente per un mese quindi sarebbe comunque un sostegno che mi dareste a voi totalmente gratuito quindi twitch permette anche questa cosa tra l'altro ovviamente ragazzi vi ho sempre detto che youtube a me non porta praticamente un centesimo in tasca o se mi ha portato qualche euro ragazzi sarà stato tipo una volta da quando sono iscritta youtube quindi immaginerete quanto ho guadagnato con tutti i video ragazzi che ho fatto fino ad oggi praticamente zero e quindi ovviamente spostarmi anche su twitch ragazzi potrebbe essere un motivo in più magari per riuscire a raccimolare qualche soldino in più per sbarcare il lunario quindi se ragazzi doveste volere sostenermi anche su twitch insomma sarebbe veramente un grandissimo aiuto per me e come sempre ricordatevi ragazzi che donazioni che mi fate o gli abbonamenti che appunto fate al mio canale twitch ragazzi sono sempre ed unicamente destinati a migliorare comunque i miei mezzi di streaming di editing video eccetera quindi in questo caso ragazzi sarebbe il mio computer quindi il mio obiettivo attuale comunque è quello di migliorare il mio computer quindi le donazioni gli abbonamenti ragazzi che fate sono indirizzati ovviamente ad un upgrade per il mio pc per poter comunque così appunto offrirvi sempre ragazzi un servizio di streaming e di video migliore per potermi permettere tra l'altro di giocare ragazzi gli ultimi giochi usciti come per esempio orient will of the wisps che attualmente purtroppo non posso giocare proprio a causa ragazzi nel mio computer quindi per ricordarvi che comunque i soldi che investite tra virgolette nel mio canale vengono sempre ed unicamente utilizzati per questioni che riguardano il canale ragazzi quindi sia magari migliorare il proprio comparto tecnico sia acquistare giochi per farci serie e cose del genere per cui ragazzi veramente non vi chiedo niente non è che vi sto chiedendo di abbonarvi al mio canale o di donarmi insomma a prescindere quello che vi sto chiedendo è una cosa rapidissima facilissima e gratuita tra l'altro ragazzi quella di followermi anche su twitch quindi come mi seguite magari su youtube di seguirmi anche su twitch se volete supportarmi veramente al 100% e io vi sarò veramente grata ragazzi di questa cosa se doveste appunto decidere di supportarmi anche lì poi ricordatevi che a maggior ragione è gratuito per voi ragazzi abbonarvi al mio canale se avete amazon prime per cui insomma se doveste decidere anche di fare questa cosa ragazzi ve ne sarò ancora più grata per cui penso di aver detto tutto di aver spiegato tutto se in caso vi stesse chiedendo cosa porterò su twitch ragazzi ovviamente quello che comunque un pochettino si fa di solito in live streaming magari non proprio serie ufficiali perché quelle penso che comunque le riserverei ragazzi al canale youtube quindi in live giochi un pochettino più leggeri tipo per esempio league of legends adesso sto cercando un pochettino di cominciare a capirci qualcosa oppure comunque ragazzi live di just chatting cioè sarebbe a dire live in cui semplicemente chiacchieriamo un pochettino fra di noi del più e del meno e magari più avanti anche di altri giochi sempre un pochettino più random un pochettino più leggeri per rendere le live comunque godibili e non noiose per cui sempre ragazzi nel massimo dell'interazione con voi perché sapete che io a questa cosa ci tengo veramente tantissimo quindi state sicuri che io la chat sempre la leggo sempre la tengo sott'occhio sempre cerco comunque di salutarvi tutti di rispondere sempre alle vostre domande e vostri commenti per cui ragazzi niente credo di avervi descritto tutto di avervi detto tutto quello che vi volevo dire quindi in anticipo chiunque ragazzi dovesse decidere di supportarmi anche su twitch grazie veramente di cuore e niente dai ci aggiorniamo nei prossimi giorni sempre sui social ragazzi comunque su youtube telegram instagram insomma quello che è ci becchiamo comunque o su twitch o su youtube o dalle altre parti quindi vi mando un saluto un bacione e obdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao